Con un pari grado della Polizia, ma anche delle altre forze dell'ordine, c'è oltre 6.000 euro l'anno di differenza. Certo che si ripercuote sulla differenza mensile, che in alcuni casi va fino a 700 euro di differenza. Noi non rivendichiamo, come dire, che loro, ovviamente, gli altri corpi di polizia, noi rivendichiamo almeno l'equità. Annullare le disparità di trattamento con gli altri corpi nazionali di sicurezza è questa la richiesta contenuta nel documento che i vigili del fuoco del sindacato Conapo hanno consegnato questa mattina al prefetto di Arezzo, Clara Vaccaro. Ristio loro di una certa natura, il nostro probabilmente di un'altra, ma a livello di rischio penso che si possa equiparare. La manifestazione dei pompieri aretini davanti al Palazzo del Governo si inserisce all'interno di una ben più ampia protesta nazionale, con sitine simultanei in tutte le province d'Italia, in vista dell'approvazione del decreto di riforma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prevista nei prossimi giorni. In appoggio al nostro segretario nazionale del sindacato Conapo, che è dal 15 di maggio che sta facendo lo sciopero della fama per sensibilizzare i nostri governanti alla luce dell'approvazione di un documento che dovrà regolamentare le attività e anche il riconoscimento e le retribuzioni del Corpo Nazionale, nel quale non è contenuto niente di quello che stiamo chiedendo. Sono stanziati dei soldi che dovrebbero ridurre queste sperequazioni nei confronti degli altri, ma che sono destinati non solo al personale operativo, ma destinati anche a altri soggetti che con gli operativi non hanno niente a che vedere. I Vigili del Fuoco, infine, hanno chiesto al Prefetto di inoltare le loro richieste al Premier Gentiloni e ai Ministri Minniti e Maria. Il riconoscimento di quello che è il lavoro del Vigili del Fuoco, non solo sui media, quando c'è la necessità, bravi, gli idoli dei bambini, eccetera, anche da parte dei politici, o quando ci sono catastrofi, purtroppo, ma anche in senso concreto. Noi siamo nel territorio aritino e avrebbe bisogno di avere più considerazione anche per le strutture, per le caserme, per l'organizzazione, per i territori. Sansepolcro e Prato Vecchio hanno dei personale volontario al quale non possiamo altro che essere, come dire, riconoscenti, ma che comunque il personale volontario, proprio per la natura del volontariato, non può essere equiparato al personale permanente.